Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin, nutella e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Ingredienti sono burro morbido, zucchero semolato, uova, mascarpone, vanillina, sale, farina di tipo 00, lievito per dolci e nutella. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Teniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo il burro morbido. Azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Finiamo sul fondo del boccale e facciamo amalgamare per altri 30 secondi sempre a velocità 4. Aggiungiamo le uova e facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 4. Aggiungiamo il mascarpone, il pizzico di sale e la vanillina. facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 4. Adesso aggiungeremo la farina. e il levito in polvere per dolci e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Trasferiamo il composto in dei birottini per muffin riempendoli per tre quarti. Mettiamo un cucchiaino di nutella in ogni birottino. Completiamo ricoprendo con il resto del composto. Adesso cuociamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti. Muffin sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servirli. Muffin, nutella e mascarpone. Muffin, nutella e mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta. Muffin, nutella e mascarpone. Muffin, nutella e mascarpone.